L'Abruzzo sarà zona gialla anche la prossima settimana. Questa è la decisione della cabina di regia ministeriale che si è riunita oggi. Zona gialla confermata per un soffio. L'indice RT in Abruzzo è infatti a 0,99, appena sotto la soglia di 1 da cui scatta improrogabilmente la zona arancione. La zona gialla, ricordo, è determinata dall'RT. Un RT superiore a 1 ci fa cambiare colore. Noi siamo a confine, al limite di questo 1. La curva epidemiologica rimane comunque preoccupante. La cabina di regia ha classificato l'Abruzzo tra le 11 regioni a rischio moderato. Oggi in Abruzzo sono 276 nuovi casi di Covid su 6.439 test tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività complessivamente è al 4,2%. 10 morti comunicati oggi dalle ASL. Nell'ultima settimana i numeri raccontano un aumento dei casi e delle ospedalizzazioni. Dal 29 gennaio ci sono stati 2.405 contagi. Oggi ci sono 158 positivi in più rispetto a una settimana fa. Stessa cosa per i ricoveri. Dal 29 gennaio 8 persone in più sono in terapia intensiva e 64 in più sono ricoverate in area medica. Portando i rispettivi totali dei ricoverati a 48 e a 453. Mentre il Covid Hospital di Pescara è in affanno e i pazienti sono dirottati verso altri nosocomi. Per conservare la zona gialla regionale quanto più a lungo, il presidente Marsilio, sentito il comitato tecnico scientifico, ha disposto tre mini zone rosse che scatteranno dalla mezzanotte di oggi nei comuni di Atessa, Tocco da Casauria e San Giovanni Teatino. Nei prossimi giorni altri due comuni potrebbero essere sottoposti alle stesse restrizioni. Sono misure restrittive importanti per evitare che ci sia una pandemia ancora più estesa e quindi si lavora a livello preventivo. Per il momento sono questi tre comuni, sono sotto osservazione altre due comuni di una provincia dove ricordiamo e sollecitiamo a essere molti attenti nel seguire queste norme di distanziamento nei luoghi pubblici eccetera e valuteremo di volta in volta. I sindaci dei tre comuni in zona rossa, impegnati nell'organizzazione degli screening di massa, parlano di una decisione sofferta ma necessaria. Non è tanto l'aumento dei numeri quanto il fatto che si sta ramificando eccessivamente e quindi è evidente che necessità di una situazione di stop per poter fare un controllo migliore a tappeto e mirato. Perché altrimenti rischiamo veramente di non fermare questo contagio all'interno del paese e poi di conseguenza di escludere che poi esca anche fuori dal paese. Purtroppo è una notizia che ovviamente mi lancia nello sconforto perché tornare in zona rossa dopo i tanti sacrifici che abbiamo fatto, e mi riferisco chiaramente anche alle attività commerciali che tanto hanno patito, però purtroppo è una decisione del Comitato Tecnico Scientifico e che il Governatore non ha potuto notare in considerazione.